Amici, amici italiani, eccomi qua con le mie promesse come garantito. Allora sappiate che il vostro presidente, che è qua con voi, io vi prometto e vi garantisco che vi ridarò, bene, vi ridarò Italia 90, bene, bravo, poi vi ridarò i fratelli Peppe e Carmine, Carmine Abagnale con il timoniere di Capua ed Aversa, però insomma il timoniere di Capua, poi amici vi prometto, io vi ridarò, vi ridarò Pietro Menea di Città del Messico, il record di Città del Messico, bisogna dare di più, bisogna osare, vi ridarò Sara Simeoni il suo record dei due metri, del salto in alto, è chiaro, vediamoci se era salto in lungo, figuriamoci, del salto in alto e poi una che spacca, una che spacca sulle donne, una che spacca sulle donne, che spacca proprio. Allora carissime donne, io vi garantisco e vi prometto che mai, mai più avrete il ciclo tutti i mesi, ma solo una volta ogni quattro anni, come le Olimpiadi. Eh, va bene, va bene così, va bene, mi consente.